allora andiamo a vedere che ci ha sfuggito divertente molto divertente e ma non è qui questo non c'era prima però va bene allora è anche la casa delle no no aspetta un attimo porca vacca se può scendere la luce qui anche no vabbè c'è qualcosa con cui possiamo interagire non mi pare non mi pare assolutamente che c'è un altro libro sempre il ritratto di rain gray mi sembra che è vabbè penso che l'unica riuscita è questa forse adesso si sblocca qualcosa vediamo il fantasma ma che no è una stanza una semplicissima stanza bene c'è un altro quad a qui si può accendere la luce aspetta aspetta accendiamo luce benissimo c'è un'altra lampada perché accenderei è molto volentieri apriamo tutto vai non c'è una cippa qui a stifogli che sembra sempre che c'è qualcosa da leggere invece no si occhiali a me mi sembrano sempre quelli dello scantinato dirò delle cazzate ma a me mi sembrano sempre quelli qui si può leggere vediamo un po' riunisciti al tuo partner ricostruisci la tua relazione riscopri la gioia del matrimonio quindi non andavano d'accordo o non vanno d'accordo perché io ancora non ho capito ravviva la fiamma non temere non sei solo relazioni perfette possono sembrare splendide sul grande schermo ma il resto di noi mortali deve affrontare la cruda verità nessuno è perfetto e sai una cosa beh è normale molte coppie di innamorati hanno problemi di vita quotidiana nella loro relazione ciò non le rende meno speciali serve solo un po di lavoro e noi siamo qui per aiutare i nostri consulenti tutti i vari esperti nel loro campo ti aiuteranno a identificare la fonte dei tuoi problemi e ad affrontarli con i tuoi tempi sia che si tratti di un semplice problema di comunicazione problemi di soldi o di personalità contrastanti dove c'è un problema c'è sempre una soluzione e ricorda non è mai troppo tardi sì ma allora si due comunicavano comunicano non lo so non ho capito se lei è morta e abbiamo a che fare col fantasma di lei comunicando con i messaggi appunto scritti magari poi hanno deciso di rivolgersi a un consulente di di coppia va bene cosa c'entra col quadro cosa c'entra con finiscilo che abbiamo sentito al principio non ho ancora capito se lei è morta si spiegherebbe la chiusura del piano mentre stavo facendo il mio pezzo forte si spiegherebbe la scala caduta nello studio nella stanza di lui si spiegherebbe la palla caduta dalla stanza della suppongo figlia e poi la figlia che fine ha fatto con le candele non si può interagire vabbè e qui no e comunque lui da quello che dice anche il suo editore ha qualche problemuccio e potrebbe avere qualche problemuccio perché ha perso la moglie non lo so non lo so dobbiamo passare dalla finestra c'è un altro messaggio andiamo a tradurre appena fuori portata quindi dobbiamo uscire dalla finestra andiamo come si esce non si salta non si salta va bene e scusate mi avete chiuso in questa stanza non mi fate uscire non mi fate ma forse adesso la porta aperta fammi vedere è cambiato un'altra volta è cambiato un'altra volta all'esterno non c'è più il corridoio di prima se va bene vediamo un po' lì sono cascate altre bottiglie di vino qui foglia tutto spiano ma non mi pare che se può leggere niente come al solito qui nemmeno questo se può aprirsi c'è una foto c'è una foto ecco questa potrebbe essere la moglie che suona il piano non farebbe una piega c'è scritto il nome dietro non si può girare bene ma almeno un nome come te chiamo cioè john do lo so io ancora non sappiamo come te chiami ecco c'è però da leggere c'è da dire che qui non ci si annoia mai con la lettura allora vediamo un po' io poi che sono a cima a legge cari signore e signora scriviamo la presente cari signore e signora chi chi boh io non lo so scriviamo la presente per chiedervi con gentilezza ma al contempo fermezza di abbassare il tono della voce durante la notte i vostri problemi coniugali sebbene spiacevoli sono faccende private tali dovrebbero rimanere non sono certo di interesse nostro e in particolar modo dei nostri figli per favore tenete in considerazione che non tutti sono artisti freelance alcuni di noi devono svegliarsi presto per andare a lavorare dobbiamo poter dormire dobbiamo poter dormire insomma la punteggiatura per tale ragione se le cose dovessero continuare in questo modo saremo costretti a chiamare la polizia cordiali saluti i vostri vicini frustrati allora innanzitutto io comincerai la lettera cari signore e signora rossi per dire no e quando vado a salutare cordiali saluti i vostri vicini che ne so rossi per di no niente qui non si sa come si chiama il nostro personaggio non si sa chi sono sti vicini ma ma io dico no ma il soggetto io non lo so vabbè a sto punto penso che dobbiamo proseguire per sta porta no girando in tondo ecco mi sa che mi è stata a far girare veramente in tondo niente altro vino bottiglia ho perso il conto di quante erano 30 meno non lo so meno 5 a sto punto 6 c'è sempre sto quadro con la morte altra stanza si può scendere la luce qui anche no no questo è un armadio si può aprire sì anche sopra no e qui c'è qualcosa anche di nostro interesse che ci possa far capire un po meglio chi sei non sei cosa fai cioè cosa fai ho capito sei un pittore ho capito o comunque faccio notare che c'è un'altra cappelliera altre tre cappelli mini cappelliere c'ho proprio allora chiudiamo ok busti niente di che ecco possiamo accendere candela almeno si va è un po de luce alleluia che succede che su andiamo bene ma che vuol dimosti i numeri non mi ricorderò mai io se mi mi devo memorizzare ma non lo so non lo so non lo so guardiamo la scrivania allora anche questo vediamo un po c'è da leggere ma c'è un pennello però qui no qui no pipa questo non so che cos'è questo è da leggere sicuro è da leggere no ma strano avrei detto che era da leggere no cominciamo dal basso così possiamo aprire tutti ma il costo lì a richiude questo se può leggere vediamo non mancare hanno il piacere di invitarvi a celebrare il loro matrimonio sabato 9 giugno cappella di san luco ore 14 anche qui ma anche il soggetto chi chi sono chi se sposa chi ma 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 questo gioco è il gioco degli enigmi qui non c'è niente da leggere caro il mio john dot adesso ti chiamerò no ma forse ti chiamo anche dorian gray eh oh sento sento delle voci il baule ah vabbè la combinazione ma che ne so io ah no aspetta ma vuoi vedere 8 5 4 ma vuoi vedere allora fai vedere 8 5 4 dice però è un mazza dei voci 8 5 ha già stato su 4 apriamo allora vai allora traduciamo il passato nasconde guarda più da vicino cosa a questo ma questo non è l'anello che abbiamo trovato in camera da letto eh sì eh oddio sto diventa scema questo quadro anche inquietante se vuoi guardare qui c'è la morte oh ma me sta porta andiamo bene mai dimenticare bene suppongo che dobbiamo andare di qua no questa sarà chiusa vedete no tanto per capire esatto bene il percorso è obbligato quindi ci stanno dicendo di passare di qua uleee c'è pure una poltrona lì che dindola da sola tutta sporca di colori ma scusa adesso a me mi verrebbe da pensare che quella è il fantasma del pittore che sta dondolando sulla sedia perché è sporca di pittura ma se noi siamo il pittore ma a me vuoi dire chi sei maledetto chi sei come te chiami qui non c'è niente allora mi sta dando fastidio per cortesia fantasma eh bravo grazie eh non lo so mi devo concentrare oh qui c'è ancora da leggere vai così allora se fosse il nome sulla sedia abbiamo letti 500 hai ficcato il naso del mio laboratorio ancora per l'ultima volta non ti è permesso entrarci anche se la porta è aperta te lo proibisco la prossima volta dovrai cercarti un nuovo lavoro e questo è riferito al domestico del primo episodio quando abbiamo letto sulla porta che era chiusa che la chiave gliel'aveva lasciata nello studio boh però vabbè non lo so mi sembra un po' fuori di testa pure questo a me forse c'è ragione il suo editore un'altra bozzia di vino bene niente qua sotto non c'è niente qui frutta sulla sedia c'è scritto niente no vabbè siamo obbligati ad andare a sta parte un'altra trappola per topi perché ci stanno i topi io qui non so neanche dove siamo finiti anche non è più niente come la prima ho un'altra stanza comunque non è successo niente di che fino adesso eh quindi diciamo che paura è nata solo che vorrei capì almeno come si chiama sto tizio ma pare che non c'è dato sapere e quindi dobbiamo continuare ad ad investigare se può interagire con questa la bottiglia magari in goccetto vero sembrano però veli cioè che stanno qui da un sacco di sembrano impolverate ecco poi non lo so ma da sicuro che sbaglio eh un altro domino anche il domino è una costante in questo gioco ogni tanto se ne trova uno libri ma non si può interagire col mappa mondo qui si può interagire apre una porta segreta come in uncharted anche no e disegni no non c'è assolutamente niente di utile qua vabbè e non so sinceramente dove cacchio devo andare per anche perché qui non c'è manco una porta niente vediamo un po' sto armadio non c'è niente con cui interagire i cassetti c'è da leggere perché sarebbe una novità di sotto anche no un altro domino boh ma io veramente allora o sei andato fuori di testa per la perdita di tua moglie ma non capisco che cosa devi finire forse un quadro ti sei fissato con un quadro che devi finire oh madonna sto quadro mica l'avevo visto io ma c'è ora c'è un ragazzino un ragazzino è una bambola ma come cazzo ero là eppure è rovinato sto quadro sbaglio ma che cazzo cioè ma siamo caduti era una botola c'è una luce una luce grazie c'è una luce allora ci sono vari quadri salve salve anche a voi non so che sta succedendo vabbè accendiamo la luce eh madonna ma che c'è che cosa sarebbe successo te lo sei immaginato chi sei tu perché te sei spostato maledetto non mi fai paura ma non mi ha fatto paura per niente e c'è qualcosa qui magari il quadro stava qui magari c'è qualcosa no non mi pare qui c'è da legge vediamo amore mio sebbene tu non sia ancora nato posso già sentire la tua presenza è semplicemente fantastico non riesco a credere quanto sia fortunata un anno fa tutto ciò che avevo erano talento ed ambizione adesso contro ogni previsione ho una carriera un marito amorevole e te e quindi questa è la moglie non sono mai stata un personaggio molto sì un personaggio dove l'ho letto non lo so una persona molto religiosa credo di aver trovato nel perfezionamento della mia arte ciò che le altre persone cercano nei sermoni ma ora non posso far a meno di sentire come se un potere più grande stia vegliando su di me una volta mi dissero che non avrei mai avuto successo come musicista adesso mi esibisco in concerti che fanno il tutto esaurito il tutto esaurito la punteggiatura Lara in alcuni dei luoghi più prestigiosi del paese dissero anche che avevo un carattere difficile e che non avrei mai trovato la mia anima gemella e indovina un po' infine un dottore una volta mi disse che non sarei mai riuscita ad avere un bambino e di nuovo eccoci qua tu sei qui dentro di me molto probabilmente sono la donna più felice del mondo ti voglio tanto bene va bene questo è chiaramente il biglietto della moglie che in quel momento era incinta aspettava la bimba di cui abbiamo visto la stanza allora arrivederci carissimi è stato un piacere venire sotto scala lei non mi ha fatto parola di niente comunque bel turbante complimenti noi se ne andiamo di sopra penso che adesso risbucheremo all'ingresso no ah c'è una leva pure vabbè tiriamo sta leva vediamo un po' ma dove cazzo ma restiamo nella stessa stanza di prima siamo tornati su quindi io lì non ci vado perché c'è il trappolone grazie ma quello non è quello è il bambolotto che stava su quel quadro cioè sul quadro che c'era lì prima ma dimmete e adesso l'alce è sporca di vittura si è chiuso il passaggio segreto damose 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 non ho capito niente ari dai è qui ma cambia tutto ogni volta che usciamo da una porta allora qui sono cambiati un po' i rumori qui c'è qualcosa di rotto questi quadri sono distorsi sono sdoppiati sono distorti non lo so però i personaggi che ci stanno sopra sono diversi per esempio questo c'è i baffi e questo no ma starà a indicare che c'è una doppia personalità è uscito fuori di senno perché per gli artisti è molto cioè capita spesso che escono fuori di senno mentalmente eh sì vedi questo c'è i baffi e quello no doppia personalità ma l'hai vitturati così tu o li vedi così tu non ho capito ho capito solo che mi sa che sei pausa ma le mortaggi stracci ma io dico no ce n'è bisogno che quadro è eh no no sento le voci sento le voci non capisco che dicono le voci allora intanto traduciamo bugie sommersi da pittura ok eh sempre ah aspetta questo questo c'è un foglietto un po' di più sì just like that hold that pose I want to get all those lovely curves just right ok allora non lo so stava stava dipingendo cioè stava facendo un ritratto alla moglie non lo so secondo me si è uscito fuori di testa cioè questo è poco ma sicuro altra stanza altro quadro bene perfetto e altro dopo altro dopo ma non ho capito un topo suicida questo un topo suicida bene qui c'è un baule che sicuramente non si può aprire ci sono cascati tutti i libri c'è sempre il ritratto di Dorian Gray secondo me c'è un nesso eh comunque ehm vabbè mh diamo un'occhiata a sta stanza vediamo qui ci stanno sempre il solito paio d'occhiali perché secondo me sono sempre gli stessi bottiglie di vino per terra rotte come al solito un'altra volta il sorcio che si suicida mi sa di sì ma non l'ho visto sti bicchieri niente ecco comunque quello che abbiamo visto poco fa forse è un ricordo di quello che è successo cioè questi cosi qua sono ricordi come l'anello prima perché io ho sentito le voci pure quando ho preso l'anello qui c'è da leggere aspetta aspetta no 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 ok piromani striduli urla i gheggianti non si fermano davanti a niente non cederò facilmente piromani striduli infatti il sorcio si va a suicidare quindi su questo devo dire che non è impazzito niente qui non c'è niente chiudi sotto non si può aprire perché c'è stasta roba vabbè che dobbiamo fare qua ho capito qua non si può leggere qua non si può fare niente non riesco a capire un'altra cappelliera bene ci fa molto piacere ma c'entra qualcosa al quadro oh che cazzo non c'è il sorcio il sorcio il sorcio che si suicida dov'è dov'è aspetta qui c'è un bambolotto un sacchiotto no niente e vuoi vedere che è il quadro e il sorcio va verso il fuoco a suicidarsi perché come a dire vai verso il quadro andiamo verso la luce andiamo verso la luce brutto forte questo lo sapevo io bella immagine molto bella molto bella succede qualcosa devo toccare la mano si muove la mano no la mano non si muove quindi vabbè possiamo accendere le candele no vabbè a sto punto io me ne andrei da sta stanza madonna ma che cazzo allora qui c'è qualche presenza ho capito voglio sapere chi sei quindi per favore esci fuori perché non mi fai paura guarda cioè pensavi che sto trucchetto me 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 ma il quadro si è tutto distorto qua si è scolorito oh madonna dagli occhi gli esce oh mamma mia però qui c'è un barlume di di bel tempo la potrei interpretare così la pazzia della mente con uno sprazzo di lucidità questo non so che sia quindi non lo so a sto punto noi ce ne andiamo grazie tante i topi perlomeno hanno finito di morire suicidi noi sediamo un'altra stanza con un'altra mini cappelliera per le bambole non solo per loro adulti ma giustamente avendo una bimba in casa anche per le bambole e le cappelliere assolutamente cominciamo dall'armadio sento del vento lo sento qui non c'è nada con le finestre però non si può interagire qui mi fanno aprire non c'è niente io sento tanto vento ma non so da dove viene adesso andrò a indagare prima voglio vedere se c'è qualcosa da leggere sì questo sicuro sei fatti allora ciao a proposito della tua precedente lettera sono sicuro che non si tratti di nulla per cui preoccuparsi le donne tendono a diventare strane quando hanno un bambino squilibri ormonali o cose del genere quando ci è nato il primo mi ricordo che Valérie aveva l'umore sì Valérie aveva l'umore a terra scoppiamo in lacrima anche solo se le chiedevo che cosa voleva per pranzo cerca di starle accanto e vedrai che andrà tutto bene so che ti ho promesso che non ti avrei messo fretta goditi le tue meritate vacanze ma volevo solo farti sapere sto ricevendo chiamate da ogni dove incarichi a destra e a manca sei l'itro delle masse amico mio forse dovremmo battere il ferro finché è caldo ma ovviamente la famiglia viene prima di tutto il tuo amico e agente Thomas Caldwell allora la moglie quindi ha avuto la bambina e e ha avuto un crollo post parto depressione post parto come come chiacchio si chiama brutta storia allora a questo punto la moglie è morta e il fantasma è la moglie dai su e lui è uscito pazzo perché la moglie è morta ho fatto uno più uno allora da qui mi pare di vedere un'altra cappelliera possibile oppure ho gli incubi vedo cappelliere da per tutto allora qui non c'è niente non c'è nient'altro l'unica porta è questa perché tanzo si chiama quella moglie è chiusa ho già capito i meccanismi del gioco o forse l'ho capito tardi perché so un po' sento piange eh sì eh chi è che piange sento le voci sento le voci c'è qualcosa eccola in che senso ma è il fantasma è il fantasma è il fantasma vai se hai sbloccato qualcosa vediamo un po' sta porta chiusa ti sento piangere ti sento dove sei dove sei di qua o di là non capisco proviamo di qua la sento piangere la sento ok di qua è così proviamo un attimo di là perché mi pare che viene più di qua a ritagli questo è il quadro dell'ingresso niente ora dobbiamo andare di là ti sento ti sento sto arrivando aspetta abbi pazienza abbi pazienza ma non la sento più questa è un'altra dispensa ma quante dispense c'hanno queste le mele le spezie cioè questa è la cantinetta ma non vi pare che è un po' piccola con tutte le bottiglie che stanno dentro casa vabbè proseguiamo un altro pulitoio c'è dell'acqua qua traduciamo questo il primo passo è più difficile allora oltre quella porta c'è il fantasma della moglie di John Do non lo so vabbè io direi di andare a vedere andiamo un altro pulitoio